che c'ha il corridore qui davanti e lo può, diciamo, deve fare un urlo, lo può, lo può, no vabbè dai, tutto sommato si apriva subito, Massa, D'Ajuso, Alanda piuttosto che l'Almeida, insomma tanti uomini, mentre Filippo Ganna, facile, una trentina di secondi, quindi un bello Amarcord, Ganna continua a recuperare corridori, dove magari i corridori hanno perso una grande occasione, perché qui noi, mamma mia, che cosa fa tu, Ganna, che tempo ragazzi, che tempo, stellare, interstellar, Pippo Ganna, ferma, stampa il cronometro, vai a do lead su 27 e 39, 56 di media, ci godi eh Pippo, è Pippo, è fatta, Pippo Ganna